Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Oggi vi faccio un video spiegandovi i secchi di danno, come sono stati riformulati, all'interno di Diablo 4, perché così riuscite poi a capire come funziona o come comunque creare delle build più performanti quando uscirà la Season of Blood. Molto importante questo video per coloro a cui piace crearsi le proprie build da zero, senza seguire magari una qualche guida in particolare. Come vedete i secchi di danni, da Blizzard ci è stato spiegato, siccome hanno modificato alcune cose molto importanti, modificando totalmente il metodo in cui le build funzionano. Oggi come oggi, le build funzionano in questo modo. Per la resistenza abbiamo armatura, prima di ogni altra fonte di resistenza, siccome l'armatura ci permette anche di resistere a danni elementali, abbiamo poi in qualsiasi build che sia performante, che sia distruttiva e che deletti praticamente i nemici, hanno soprattutto critico e vulnerabilità. Sono le due cose principali che non possono essere lasciate da parte, quindi tutti gli oggetti tendono ad avere queste caratteristiche in particolare. Ora come ora, siccome hanno cambiato le resistenze e i secchi di danno, ora i danni sono stati leggermente modificati. Funzionano quasi allo stesso modo, hanno messo un tetto massimo e il metodo di calcolo è cambiato leggermente, siccome li hanno suddivisi in più secchi di danno. Che poi vi spiegherò come funziona adesso e vi spiegherò come funziona, come funzionerà dopo. Ora, qui loro ci spiegano che i danni critico, vulnerabile e sopraffazione funzionavano in maniera un po' sbagliata. Non volevano che funzionasse nel modo in cui è uscito. Però ci hanno ragionato, ci hanno pensato e hanno visto che danno di sopraffazione, che aveva solo la possibilità del 3% di essere attivata, quindi praticamente era solo il barbaro e il druido che avevano la possibilità di attivarlo dopo un determinato periodo di tempo o sotto determinati alcuni aspetti specifici o comunque collegato a azioni che facevamo all'interno del gioco, che allora si attivavano. Poi avevi il 3% di probabilità che si attivasse casualmente, quindi anche gli attacchi base... Insomma, è un po' un casino riuscire ad attivare sopraffazione, quindi non è molto fattibile come statistica all'interno del gioco. Molti tendono a lasciarla perdere. Ed ora tutto questo che vi ho detto cambierà con la stagione del sangue. Ci saranno ancora diversi tipi di danno, ma ora solo l'importo base del danno bonus fornito da questi metodi sarà moltiplicativo. Il resto del danno bonus a queste categorie sarà addittivo quando verranno combinate. Il danno moltiplicativo bonus base fornito da queste categorie è, se vengono mescolatene, il 20% da vulnerabile, il 50% da colpo critico e il 50% da sopraffazione, ricordando che possiamo arrivare a un massimo dell'80% sommandole tutte e tre. Il danno da sopraffazione. Inoltre abbiamo risolto alcuni problemi relativi al calcolo del danno da sopraffazione, quindi nella stagione del sangue sarà molto più competitivo come fonte di danno rispetto a prima. Ora, io mi chiedo se tolgono il 3% di probabilità di attivarlo e lo lasciano come un'abilità come il colpo critico, che puoi aumentare la probabilità di sopraffazione o la probabilità di colpo critico. Così almeno c'è un po' di... posso usarlo come statistica, perché sarà più facile attivarla come colpo critico. Altrimenti, lasciamo stare, sarà di nuovo abbandonata sopraffazione e semplicemente non ci saranno build con sopraffazione, a meno che il personaggio non abbia delle statistiche o comunque dei tratti specifici che l'attivano sotto un determinato evento o qualcosa che fa. Ora anche il profilo del personaggio mostrerà questa tabellina che ci indicherà quanto possiamo fare con la somma dei tre. Se abbiamo un tetto massimo dell'80% con la somma di tutti e tre, capite bene che qua abbiamo un 41,6%, ci manca ancora un pochino per arrivare al tetto. Qui ci dà una piccola tabellina che ci descrive più o meno come viene fatto la base di calcolo. Qui sotto abbiamo la descrizione di come funzionerà in tutto. In questo esempio qui in particolare, qui sotto, c'è effettivamente la descrizione di quello che c'è qua sopra, un 20% più un 18% che c'è dato da statistiche fornite dagli item e dai paragon. Non so questo 18% a cosa stia, se danno fisico o quant'altro, ma c'è un 18%. Quindi è 1, tra parentesi, più 0,18 moltiplicato, tra parentesi, per 1 più 0,2, tra parentesi, meno 1. Il meno 1 serve solo a toglierlo poi alla fine, perché siccome abbiamo un 1 qui, se no il calcolo verrebbe un caos. Quell'1 serve solo a limitare il calcolo e farlo venire giusto. Allora, come funzionerà effettivamente la somma di queste cose? Innanzitutto, la percentuale viene messo uno 0, davanti sempre, alla percentuale che c'è dopo. Ciò vuol dire che se abbiamo un 41,6 come qui, sarà uno 0,416, ok? Si toglie la virgola, si mette davanti e si aggiunge uno 0. Così che funzionerà ogni calcolo. Per riuscire poi a fare il calcolo, sarà sempre 1 più il bonus additivo, che è questo bonus che ci indica qui. Si moltiplicherà per, tra parentesi, uno più il primo modificatore, o moltiplicatore, poi si moltiplicherà al 1 più seconda fonte moltiplicativa, e così via, ok? Compreso con la terza. E ci sarà sempre il meno in fondo. Facendo questo calcolo che ci fa vedere qui, noi arriviamo ad avere 1,416-1. Togliendo l'1, va a 0,416, che poi la virgola viene spostata di due case e viene messa qua in mezzo. Quindi si sposta di due in avanti, si toglie lo 0, e quella sarà la percentuale che avremo di danno all'interno del gioco. Ok, magari questo non vi serve assolutamente, ma per i pro player servirà tantissimo. Siccome potranno calcolare nel minimo particolare, guardando qual è il massimo del cap di una determinata statistica in un determinato pezzo di armatura, che cosa potranno fare? Potranno fare queste diverse moltiplicazioni per limitare il numero di pezzi necessari per crearsi una build con quella statistica cappata al massimo, cioè questa. Questo metodo inoltre ci aiuterà tantissimo ad avere delle build più diverse. Siccome ha un cap massimo, noi potremo utilizzare comunque le stesse cose per moltiplicare altre cose, come danni elementali, come danno da bleeding, danno da dot, riuscendo così a creare delle build che funzionino effettivamente molto meglio. Probabilmente, qui lo dico e qui mi taccio, il barbaro probabilmente finalmente riuscirà ad avere delle build con delle abilità diverse, a non essere solo gli hurly, entrare in berserk, o wearwind, l'attacco base è sempre quello che fa il dash in avanti, o il tornado, o il martello degli antichi, che poi alla fine sono gli unici due che effettivamente funzionano bene perché scalano bene con critico e vulnerabilità. Quindi, adesso come adesso, potremmo avere delle build totalmente diverse rendendo il barbaro un personaggio veramente bello da usare, perché lui ha tante abilità belle da utilizzare che sono infattibili perché non sono viabili, non fanno danno, non riesce a fare un cacchio. Adesso potrebbe essere la svolta che ci voleva per rendere il barbaro di nuovo il mio personaggio preferito. Speriamo. Cosa significa tutto questo? Con questi cambiamenti, ci aspettiamo che accada questo che segue, loro si aspettano questo. Ce lo aspettiamo anche noi, speriamo venga fuori così. Il numero di danni ai giocatori saranno complessivamente inferiore a causa della minore sinergia moltiplicativa nel mescolare diversi tipi di danno. Ciò vuol dire che in PvP i personaggi riceveranno meno danni e riusciranno a fare un PvP più competitivo, perché adesso come adesso, lo sapete anche voi, se c'è una build performante con critico-vulnerabilità, dell'etat è semplicemente l'altro avversario senza né più né meno. Mescolare i tipi di danno sarà comunque potente, ma meno obbligatorio per tutte le build, permettendoci così di avere delle build puntate magari su un singolo elemento, ad esempio con il mago che punta magari solo sul fuoco, solo sul fulmine, oppure solo sul ghiaccio, in che i suoi moltiplicatori di danno saranno effettivamente quello che dovrebbero essere già dall'inizio. Inoltre, questo avviabilizzerà anche la creazione di build, come ad esempio con il necromante. Ora come ora, la build che utilizza i DOT fanno parecchio danno, ma non sono potenti come altre build, come ad esempio quella del Bone Spirit, del necromante che scala bene sia con vulnerabilità che con critico, e con una combinazione di due o tre mosse assieme, riesce a delettare qualsiasi nemico senza molta difficoltà, e anche gruppi di nemici. Almeno così questa build dovrebbe essere un po' più bilanciata, rendendola un po' meno sgravata come adesso, e quindi sarà meno necessario puntare su critico e vulnerabilità. Possiamo farlo? Sì, ma è un cap massimo dell'80%, quindi sta a voi decidere cosa fare. Se puntare ancora questo, oppure se magari utilizzare le altre abilità, utilizzare il vostro cervello per creare delle build che magari vi piacciono veramente di utilizzare all'interno del gioco, rendendovi il gioco ancora più piacevole da giocare, e dandovi la possibilità di creare anche nuovi personaggi con delle build che vi piacciono totalmente diverse da quelle che ci sono sempre elencate, migliore build, leveling, bla bla, e così via. Vi porto delle build sul canale, ma sono delle build create da me che mi piacciono particolarmente, e cerco di trovare sempre una sinergia per riuscire a farsi con che sia bella da usare, che sia fattibile, e che mi permetta di livellare il personaggio il più velocemente possibile. Siccome sono un creatore di contenuti, prima possibile salgo col personaggio, prima vi porto delle build, delle meccaniche e molto altro ancora. Le singole fonti di danno avranno un valore molto più uguale, quindi sarà molto più bilanciato avere un elementale di danno, oppure avere un personaggio che punta su i moltiplicatori. Ad esempio, le build damage over time e over power ora saranno molto più competitive rispetto a prima. Questo mi rende molto felice, grazie Blizzard. Mostri e nemici sono stati ribilanciati in base al potere del nuovo giocatore. Siccome c'è stato un debuff, praticamente, di tutto lo schema che utilizzavamo per creare delle build, per far sì con che sia fattibile ancora giocare al gioco, siccome i mostri hanno una quantità di vita pari a quella di un boss uber lilith, per modo di dire, hanno dovuto ribilanciare un po' il tutto, riducendo la vita dei mostri che ci troveremo davanti, perché altrimenti con queste modifiche non riuscivavamo ad ucciderli molto alla svelta. O comunque quasi, secondo me, degli elite sarebbero stati abbastanza a livello di boss che hanno una quantità di vita esagerata. Quindi è stato praticamente un cambiamento forzato. Non dovresti riscontrare una differenza significativa nella tua efficacia da questi cambiamenti. Ciò vuol dire che loro hanno portato delle modifiche, ma diciamo che sono ancora in fase di lavorazione. Quindi hanno portato le modifiche ai mostri, gli hanno ridotto le statistiche, soprattutto secondo me la vita, però non sanno bene come si comporterà poi quando uscirà nella patch 1.2. Dicendo questo, mi raccomando, lasciate il vostro feedback a Blizzard nel loro forum, nel loro Twitter, che così almeno cercheranno di lavorarci su il più velocemente possibile se riscontrate dei problemi grossi. Dato che stiamo abbassando il bonus di base che i giocatori ottengono mescolando i tipi di danno, questo crea anche uno spazio di progettazione entusiasmante in cui possiamo reinserire quel danno moltiplicativo tramite altri metodi in cui il giocatore ha la scelta di optare per quel potere e costruirci attorno qualcos'altro. Il nostro obiettivo generale con queste modifiche è premiare i giocatori che investono nel loro vettore primario di danno ed essere competitivi nel farlo, fornendo loro allo stesso tempo gli strumenti per trovare altri vettori di danno che aumentano man mano che personalizzano il loro personaggio e progriniscono ulteriormente nel gioco. Ciò vuol dire che se magari noi abbiamo danno critico che è messo abbastanza bene con il barbaro ma abbiamo magari il martello quello infernale che fa danno da fuoco e vediamo che aggiungere magari del danno da fuoco in percentuale in più sarebbe qualcosa di veramente sgravato ecco che sorge una build alternativa per il barbaro che fa danno da fuoco vedete che belle inventive che si possono avere quando i calcoli sono fatti veramente bene grazie Blizzard per aver ragionato un po' su quello che dovevate fare hanno fatto dei cambiamenti consistenti e a quanto sembra su carta dovrebbero funzionare o comunque dovrebbero rendere il gioco un vero Diablo 4 lasciate nei commenti che cosa ne pensate di questi cambiamenti se vi sono piaciuti se vi sono interessati queste modifiche perché così potrete perché così riuscirete a creare delle nuove build lasciate il vostro like iscrivetevi al canale e vi lascerò un video qua sopra che vi indicherà aspetta che non mi si vede il dito che vi indicherà 5 passi veloci per salire di livello col vostro personaggio in maniera molto veloce vi ringrazio ancora e alla prossima ciao io